Wolf, storie che contano, il podcast di cui non sapevi di aver bisogno. Guardare questo podcast non vi renderà automaticamente ricchi. Ciao amici di Wolf, questo è Federico e questa è la seconda parte dell'intervista a Olivier François. Guardatela perché è una puntata pazzesca. Elon Musk è un po' l'Andre Citroën, capito, o il Dante Giacosa dei tempi moderni. Lui si è inventato una cosa e ci ha creduto. Vi conoscete? Sì, 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 sì. Questo sarà per un'altra puntata, ti racconterò il mio incontro con Elon Musk. A me fa un po' paura, ti posso dire sinceramente, ma a me è un po' spaventa. Ogni tanto mi affascina, ogni tanto mi spaventa. No, no, l'ho conosciuto, sono andato a bussare alla sua porta un giorno, ovviamente avendo scambiato. Sono stato a casa sua e ho cercato di condividere la... Si pensava già alla 500 elettrica dove mi ha parlato di elettrico. E di cosa si sarebbe potuto anche eventualmente fare insieme che poi non si è fatto. personaggio abbastanza geniale, difficile come tanti, sai. Ti ho parlato con amore di Sergio, ma non è che era molto facile. Certo. Mentirei, non è che ha avuto una vita molto, molto semplice dal momento in cui ho firmato con la Fiat per un libro di poesia. E dunque mi ha portato in America per... perché? Allora, avevo fatto la lancia Delta, ma in piena crisi del 2008. E là, ovviamente in piena crisi, all'Eleman Brothers... Casino. Dunque la cosa è nata ed è morta, perché non si poteva più fare nulla. I pochissimi soldi che avevo per pubblicizzare questa macchina, le ho spesi a fare uno spot uno a favore del Tibet libero che ho fatto passare durante i giochi olimpici di Pechino. Questo l'ho fatto una volta, ma ne hanno parlato tutti. Parliamo del 2008, dopo che oggi. Però ha fatto un po' scalpore e la gente ha un po' notato la macchina. A seguito di questo ho ricevuto una chiamata abbastanza... che sono cose che non capitano ogni giorno. Ho ricevuto una chiamata di Mikhail Gorbachev, che era ex presidente russo, un eroe della pace, e Nobel per la pace. E lui mi ha chiamato in veste di presidente dei Nobel per la pace. Ah, ok. C'è un club. C'è un piccolo club di Nobel per la pace. E mi ha detto... Sai cosa fanno quando si vedono? No, io c'ero, te lo racconto. Praticamente lui mi chiamò contrautrice, perché lui non parla inglese. Ok. Dice ho visto la sua pubblicità. E voi, in qualche modo, in russo, tradotto in varie lingue, mi dice voi avete le palle così. perché è un tema delicato, sensibile. E allora io riunisco tutti i premi Nobel per la pace fra due settimane a Parigi e le voglio far andare in lancia, perché siete gli unici che vi meritate. Che top! Che bello, che bello. Allora, dico sì, mando delle lancia delta a Parigi. Dunque lo spot lo troverai. Adesso te lo devi vedere assolutamente, ma quando ti dico, puoi cominciare il lancia Nobel, poi te lo racconto. Ok, vai, vai. Perché questo vale, veramente vale. E dunque vado a Parigi e mi prendo uno con la telecamera. Perché dico, sarà comunque un momento incredibile quello dello sbarco di tutti questi capi di stato, eccetera. Che mi scendono dalla lancia. Che mi scendono dalla lancia. E con il mio amico, si chiama Sergio Munao, che lavora oggi ancora in lancia, in realtà, che è il capo della... ci sediamo in una pizzeria a Torino a dire cazzo. Domani andiamo a Parigi, c'è questa cosa, inventiamoci qualcosa. E ci viene l'idea. All'epoca si parlava, poi c'era stato un film anche molto bello su Aung San Suu Kyi. Ti ricordi, la presidentessa birmana che era stata per 21 anni agli arresti domiciliari. Purtroppo lui ancora. ma è stata di recente, è stata presidente, è stata liberata e poi adesso lo è di nuovo perché la giunta militare l'ha rimandata. Ma diciamo, facciamo una bella cosa. E questa è la pubblicità. Si vedono con una musica che ho fatta io, tra l'altro, con il mio coprice. Qual è questo? E questa. Questa qua? E questa, non so che lingua l'abbiamo cliccata. Aspetta, lancia il summit. Eccolo qua. Ci sono persone che combattono da sempre. Uomini e donne che hanno fatto guerra alla guerra senza usare altra arma che la loro vita. Oggi vorremmo abbracciarli tutti. Ma c'è un abbraccio che ci manca. Questo film è dedicato ad Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace, prigioniera nel suo paese. Bellissimo! Posso dire, ma in più geniale, perché quanto avete speso per farlo? Ottomilla. Niente? Niente. Cioè, per esempio, una telecamera, loro che scendono. Niente. Musica fatta. Musica top! Fatta tu? Sì, sì. Che top! con il mio amico Flavio e l'abbiamo fatta il giorno prima. Ah, Flavio, l'italiano che vive in Francia. Quello di Piano Rotolo. E dunque, facciamo la musica, giriamo la cosa, lo editiamo sul posto e la sera c'era a cena loro. E mi autoinvito alla cena con il mio computer. Cosa vuol dire mi autoinvito? Chiedo il permesso. Ah, ok. Se vuoi, dico, se non è un problema, vengo. Ok, ok. e avevo un amico meraviglioso con cui lavoro ancora, Enzo Cursio, che è quello dietro tutte le... uno che è molto influente a Roma e non solo. Mi fa, guarda, ci penso io, vieni. Poi, ti vuole bene Michael Gorbachev, dunque, alla fine. E arrivo con il mio computerino, io, mi sono legato della Lancia comunque, le cuffie, come le tue, e mi dico, ok, il mio piano era di andare a regredirli tutti per avere la release. La liberatoria. Perché se no... Cazzo, tu hai girato tutto illegale e non avevi la liberatoria. Come faccio? È una roba improvvisata dalla pizzeria in 24 ore della pizzeria al... E non è che mi dovevi convincere gente a casa, mi dovevi convincere della gente che non è che... Li ha visti. Non è che voleva proprio fare lo spot magari del... Capito? Ma assolutamente. Scusami, ma gratis tra l'altro. gratis. Perché tu dici è per una causa buona. È per una causa molto buona. Causa buona, ma comunque... Io ho un problema nella vita che non sembra, la gente non mi crede quando dico che non ho ambizione, purtroppo la verità, cioè non è che ne vado... Non mi crede anche quando dico che sono un po' timido, ma sono super timido io. e dunque sono là a dire... Il mio piano era di girare... Stavano mangiando? Stavano mangiando e come cazzo faccio? E là... Chi c'era? Dimmi un po' di nomi. Allora, c'era... Gorbac. Quelle che vedi, dunque, Lesh Valesa, queste sono due pilastre della pace nel mondo, praticamente. C'era il Dalai Lama che si vede anche nella pubblicità. c'era Nelson Mandela. No. C'era una signora vicino a me che non conoscevo. Che è super carina, molto easy. E mi dice ma tu chi sei? Che fai? Eccetera. Approachable, come dicono. E allora dico ma guarda, io ho fatto sto piccolo spot. Vuoi vederlo? Vuoi vederlo. Dico sì, dai, bello. Io mi annoio un po', eccetera. Allora le metto le cuffie e lacrime perché la cosa è veramente forte. Dice ma è bellissimo. Ma tu hai tutte le liberatorie. E dico, eh, ti dico la verità, sono qua per questo. Ci penso io. Chiedi al mio marito. Chiedi. Come chi è tuo marito? Bono. Così sono diventato molto amico con Bono. La cosa, sai, nasce tutto da oggi. Non lavoro tantissimo con Bono, poi la cosa con la musica di Ryan Ted promuovendo la 500 elettrica in America che ho girato la prima scorsa e con Bono, come forse hai visto, dunque un duetto con Bono che è diventato il nostro partner attraverso Red. L'amicizia con Bono nasce in quella cena del 2008. E allora con Bono faccio il giro dei tavoli. quindi Bono ti dice dai ci penso io, vieni con me. C'era Carla Bruni. Incredibile, perché ti ricordi forse che Carla Bruni era stata... Mica Nobel per la pace parla Carla Bruni. No, perché era la moglie del presidente e la cosa si gira... C'era il presidente francese. Chiaro, chiaro, chiaro. E io ho fatto la pubblicità con Carla Bruni, first lady di Francia. Era la musa della musa. Era la musa della lancia musa. Anche questo è una storia... Beh sì, perché sarebbe come avere che ne so, capito, Michelle Obama in esercizio che fa la Toyota. È una cosa un po' particolare. Comunque, avevo pensato ma chiedo a Carla. Poi alla fine è capitato tutto. Grazie a Bono. Abbiamo avuto le liberatorie, la cosa va in onda e va immediatamente su tutti i telegiornali del giorno. Cioè quel giorno lì... Quel giorno lì, virale. Perché, ah sì, perché Carla Bruni appunto insieme a Bono mi hanno rubato la cosa, ma nel senso bello. Se ne sono appropriati, cioè hanno detto... Hanno detto, Olivier, ti abbiamo aiutato, ma vogliamo una cosa. Domani mattina l'apertura dei lavori dei Nobel la facciamo con il tuo filmato e lo presentiamo noi due. Ma top, ma fallo subito. Ma subito, va bene. Io vendo macchine, non sono... Va benissimo, vai, vai. E dunque lo hanno fatto e allora a questo punto ce l'ho nel mio computerino, ancora le immagini, Marchione vede sta cosa, poi a un certo punto dico, mi sono totalmente scordato di parlarne con Marchione. Ma non gliel'hai detto? No, ma altamente politica. Eh, ma cazzo. E la cosa, e lui vede la cosa, mi chiama, vedo la chiamata, è là che ho realizzato, ho detto, uh, sono andato un po' sbrigativo. In realtà è impazzito, è impazzito, è impazzito, è impazzito, è impazzito, grappa e carta, e fumo, tanto. E io ho smesso, meno male, nel 2013, ma, ma, e lui un po' più avanti, ma, era molto arrabbiato del fatto che mi sono, che ho smesso. Perché non poteva più fumare. No, fumava lo stesso, mi puniva fumando ancora di più, ma, no, perché diceva, come hai fatto? Dico, ma, volontà? No, io ho più volontà di te. Sì, lo so, però, la mia piccola volontà, ci è riuscita, la tua grossa volontà, no. E dunque, ehm, andiamo lì a Detroit, e mi dice, ma, tu non vuoi sapere, perché era anche, perché mi dice, domani, se non ha piani, andiamo. Non ha piani, dico, no, non ho piani, che era una menzogna, perché era il 4 ottobre, che è il mio compleanno. Avevo piani. Sei di bilancia? Sei di bilancia, anche io. Anche tu, sì, ascendente? Scorpione. Come me! Ecco, no, bilancia Scorpione, sai chi è bilancia Scorpione? No, Scorpione Bilancia, Leonardo Di Caprio. Ah sì? E mia moglie, e Scorpione Bilancia. Però sai, io l'ho conosciuto, però non ci siamo trovati. E lui è dell'11 novembre. Novembre, ok. E comunque, dunque mi porta lì, senza dirmi perché. Ah, no, era così, e lo giochiamo. Ma che rapporto incredibile, aveva un rapporto stranissimo. Posso fare una domanda un po' cruda? Sì, sì. Come hai vissuto la sua perdita? Perché nella mia testa da italiano, Marchionne, prima di venire a mancare, comunque c'era una narrazione in Italia, un po' di battuta. Sì, di battuta, è vero. Di battuta. E poi quando è venuto a mancare, ovviamente, come dice il buon Saviano, da solito stronzo passi a venerato maestro. È verissimo, è verissimo. E tu come l'hai vissuta? Perché mi immagino, cioè, non hai perso solo un partner di lavoro, hai perso un amico. Io lo, è strano, sai, io ho perso mio padre nel 2009, in piena, il giorno che facevo la presentazione del piano industriale Chrysler e gli investitori, di quel giorno forse più importante della mia vita. E ho sognato spesso mio padre e che poi nel mio sogno, in realtà era mio padre, però aveva la faccia di Marchionne, capito? Perché in realtà ha sostituito lui. Perché poi aveva questo stile molto paterfamilias. Dunque, no, il rapporto non è, non poteva essere facile per nessuno. Dovevi anche tenere una certa distanza, che lui, lui era molto carino, ma, ma aveva questa, dovevi sempre, è una cosa particolare, dovevi sempre sorprenderlo. Dal momento in cui si abituava un po', ti trovava un po' il volto familiare che dice un po' le stesse cose, ti escludeva. Ma nel senso che... Dovevi sempre stupirlo. Dovevi sempre stupirlo. Dovevi sempre stupirlo. Dunque, io ero, è una specie di cosa un po' mitologica, io ero condannato... A stupirlo. A stupirlo. Sempre, sempre, sempre. Lui, sai, gli facevo, ha fatto dei spot che hanno fatto un po' la storia, quello con Eminem, quello con Clint Eastwood, quello con, con Bob Dylan, tanti, no? Bill Murray. e allora all'inizio guardava la cosa e diceva, un genio, sei un genio. E andava in giro con il mio spot, questo qua è un genio, lo spot più bello. E a un certo punto, dopo qualche giorno, tendeva, mi diceva, perché non dormiva, dunque diceva, ma l'ha visto il mio spot, ad esempio, l'ultimo che gli ho mandato con Whatsapp? Ho passato la notte a vederlo. due o tre giorni dopo, qualcuno diceva, ma è bello il vostro spot, l'ultimo della Jeep, eccetera. È una merda. Perché si era troppo abituato. E si era abituato. Finito. E dunque, la mentalità di quelli che non si accontentano. ha capito, il sisifo, che doveva sempre spingere, poi a un certo punto, una merda. Allora dovevo poi risalire. ma sai, è una formazione straordinaria. Eh beh, cavolo. La cosa che aveva Marchione, è che secondo me è il segreto assoluto nel reclutare persone nel 2023-2024. E avevo questo straordinario equilibrio tra brain, right brain, left brain, no? Come si dice? Cervelo destro, cervello sinistro. Razionalità e... Razionalità e emotività. Logica e caos. Scienza e magia. Oggi, allora, i CEO, gli emissori delegati, prima di lui, dopo di lui, prima di me, dopo di me, sono, hanno un taglio molto logico, scientifico, dato. Numeri. Numeri. Perché così. E bidda, eccetera. Ed è logico. Il mondo sta cambiando. Cioè, io, venendo da te, giocavo a Bugamon, mi piace giocare a Bugamon, con il telefono. io sono molto bravo. C'è un AI, neanche tanto evoluto, che mi batte. Certo. Dunque, alla fine, la logica pura, la scienza pura, il dato, la logica, ci sostituire. Io sono abbastanza bravo con questo. Sai cosa penso io, che lo dico sempre? Mi hanno intervistato per Deloitte, sull'intelligenza artificiale, gli ho chiesto, perché cazzo intervistate me, sull'intelligenza, io non so niente. Cioè, ma è tutta quella roba lì, non mi affascina, perché è automatismo. Io non sono amante dei numeri, non mi piacciono queste, io sono un creativo puro. E quindi ho detto, secondo me, l'unica cosa che l'intelligenza artificiale non potrà mai sostituire, è la creatività umana. Esattamente. Perché quella, c'è una componente d'anima, c'è una componente d'anima, che non riuscirà mai a replicarlo. Siamo in un momento abbastanza spaventoso, io, del mondo, che è il mondo di disruption, no? Come si dice di... In cui tutto quello che... Non solo disruption, disruption è anche molto... regole imposte, canoni imposti... Sì, sì, è vero, ma guarda, regole, dovete fare la macchina elettrica. Ma allora macchina elettrica è una disruption pazzesca, è un mischio di regole di urgenza, di emergenza, perché c'è un'emergenza clima, c'è un'emergenza di tutti i tipi. E dunque, in un momento di disruption totale, in cui i schemi prestabiliti non funzionano più niente, e in più, l'EI è accessibile a tutti. Cioè, il mio figlio di sette anni può usare il CharGPT, e lo fa. Allora, la differenza tra il manager bravo e il manager meno bravo, non lo facciamo più solo, c'è sempre la parte, ci mancherebbe. I conti devono tornare sempre. I conti devono tornare, però magari l'EI te le fa tornare. Ma in realtà poi ci sono aziende che hanno i conti in rosso da una vita e sono leader di mercato. Sì. Quindi, cioè, nemmeno i conti forse devono tornare più, forse. È vero, parlavi di Elon Musk. Esatto. Prima di fare soldi ne ha persi tanti, ma tanti, ma tanti, ma tanti. Dunque, il concetto è che la visione, la capacità di reinventarsi e alla fine la mia metafora del libro di poesia in cui ero timorato, avevo paura, mi sono detto ma se si sa che io scrivo poesie sarò segato, non avrò futuro in questo mondo manageriale. In realtà oggi Marchione, lui che era ovviamente un precursore, mi ha assunto per il libro di poesie. il libro, mi ha detto ma l'ho preso per questo, per i suoi risultati li conosco, mi danno anche fastidio, mi dice, però con questo, perché io non parlavo italiano meno bene di oggi o più male di oggi, e nell'ascensore mi fa perché lei vede ha una marcia in più. Dice, una marcia in che senso per aver capito che... e dunque effettivamente lui aveva questo e ti direi io gli ho fatto anche il suo test una volta, era molto simpatico, eravamo in Brasile, io, lui e un paio e il capo delle fabbriche e il CFO, il direttore finanziario e c'era un test che girava, sai, su internet, ma basta, sa, ben fatto, devo dire, sai, cosa, devi cliccare molto velocemente, non mi ricordo che numero vedi, eccetera, e io mi trovo con 50-50 e poi dire il finanziario era proprio 90 logica a 10%, quello di fabbriche è uguale, scende Marchione l'ascensore, lo aspettavamo per andare a cena e fa, ragazzi, che fate? e facciamo sto test, right brain, left brain, ah, mi dia sta merda, che parlava sempre un po' così, sai, dico, no, meglio spiegare, non mi deve spiegare niente e prende il mio, era l'iPad, mi prende l'iPad, si mette a, pop, 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 e è venuto fuori in realtà molto più dal lato caotico che dal lato logico, è molto interessante, era quello, allora, poi, uno che è molto intelligente che ha 40% di logica, secondo me il suo 40% è probabilmente un 100% del mio, ma aveva questo, non era il perfetto 50-50, era un po' sbilanciato sulla, l'intuizione, l'emozione, il feeling, l'istintività, era un istintivo, dunque, questo è l'idea, mi porta in America per via di questa, perché, si è detto, questo qua, da un'azienda totalmente in fallimento, se ci mettiamo un po' di marketing, magari qualcosa riusciamo a far partire, perché i soldi per fare le macchine sono più o meno 10 volte quelli che ti costa il marketing, ovviamente, saranno le due cose, ma se tu devi fare una macchina, all'epoca che non si potevano sfruttare le sinergie che oggi abbiamo, che ribadisco, Stellantis, grazie a Dio, salverà tutti i brand, perché la capacità di produrre macchine, modelli nuovi, ha un costo con un break-even basso, capito? Se tu non hai un successo commerciale, non muori. All'epoca di Fiat ed è quello che è successo con Chrysler, si considerava che tu non potevi resistere, una società sana non poteva resistere a più di due flop. Una, un po' fragile, moriva con un flop. Arca miseria. Dunque, la Fiat è andata di prima di marchione. Quindi non potevi sperimentare. Non potevi sperimentare. Dovevi andare a colpo sicuro, mentre adesso riuscite a sperimentare di più. Abbiamo tagliato a metà il break-even e adesso scendiamo anche al terzo. Dunque, in realtà puoi sperimentare, puoi fare cose bellissime. E dunque, all'epoca, lui in realtà, dunque in aereo, alla fine mi dice ma non vuoi sapere cosa andrà a fare? Sì, aspetto che tu mi fai. Perché era sempre questa specie di tira e molla. Sì, tira e molla. Mi dice allora te lo dico, tu farai l'amministratore legato Chrysler. e dico, bellissimo, ma il marketing invece perché mi aveva dato da poco il ruolo di Siamo. Dico, no, no, lo fai anche per i marchi americani. Dico, allora bello, figo, fantastico, facciamo. E mi approdo in America la terra del marketing. No, me non capivo, è in terra del marketing, questo è verissimo. E il motivo per cui vivo tutt'oggi ancora in America, ho la doppia, diciamo, faccio macchine in Italia, ma il marketing lo faccio in America perché è la terra, c'è tutto là. È verissimo questo. E dunque lui mi dice, ti piace Chrysler? Marchio Chrysler, non la Chrysler. E dico, bellissimo, c'era la Crossfire. La Crossfire, sì, me la ricordo. Me la noleggiavo ogni tanto, mi dice, no, questa, l'abbiamo terminated. Niente. Dico, un peccato, però, poi c'è sto, il primo suvibrido della storia, si chiama Pacifica, era bello. Cioè, no, questo non faceva soldi, terminated. Dico, allora c'è la PT Cruiser, un po' vecchiotta, ma è particolare, si vendeva anche in Europa, mi fa, no, questo andava bene, ma ci serviva la fabbrica in Messico per fare una Jeep. No, per fare la Fiat, la 500, che ancora io non... E dico, ok, cosa ci vado a fare? Dico, guarda, c'è la Sebring, ma la Sebring era brutta, brutta vera. e non era una buona macchina. Dico, dunque, io non sono l'amministratore legato Chrysler, sono il capoprodotto della Sebring. Dice, no, dai, non prenderlo così. io un po' di soldi ce li ho per rifare la Sebring. Dico, ma io non ho neanche tanto tempo e i soldi sono, quanto, 500, 600 milioni? No, ho 60 milioni. 60 milioni non si fa una macchina. Qualcosa ti inventerai, perché mi dicono sempre quello, qualcosa ti inventerai. Cioè, ti ha dato budget bassissimo. E aveva quello. Era fallita la Chrysler, era un bailout company, cioè era una compagnia, un'azienda, anche la GM, a chi, lo Stato, Obama, aveva prestato un po' di soldi in piena crisi, dicendo, aveva fatto una specie di auction, come di gara, dicendo, i più bravi... Il bailout è il contrario del bail-in quando fatigliscono le banche. Esattamente. Il bailout è quando la barca te la rimettiamo a galla, ma appena appena, poi tu ti arrangi. Allora, 40 milioni, le ho messi a... Ho rifatto un po' l'estetica, ma poco rifare, eccetera. C'è un design bravo lì. E... 20 milioni. E 20 milioni le ho messi a fare la qualità, che è una roba strana, perché non si vede la qualità. Però mi sono detto, guarda, facciamo una buona... Facciamo una macchina onesta, che non era tanto... ben fatta. Dunque, 20 che si vedono, 20 che non si vedono, ma che ti fanno... Che per l'America, quello che non si vede, non so se gli interessa l'americano. Così, sulla carta. Ma che mi permetteva di sentirmi... Ok. È una macchina buona. È una roba che va. Ok. Il prodotto è buono. E tu mi dirai, gli altri, gli ultimi 20, perché il 20 più 20... Lo so già, lo so già. Marketing. Marketing. Allora, ho fatto uno spot, uno. Uno. Superbowl. Dunque, la... Costa 20 milioni, così... Allora, costa un po'... Sì, costa praticamente 20 milioni. Per prendere uno spot al Superbowl, 20 milioni? No. No. Allora, la storia... Costa in realtà meno. Costa più o meno 5 milioni i 30 secondi. 30 secondi, ok. Come ho fatto a spendere 20? E che hai dovuto girarlo? No, neanche quello. Allora, questo è la... è probabilmente una delle storie più belle. Anzi, mi chiedono tanto di... Mi chiedono di... di scrivere un libro, o di partecipare, di girarci un documentario, perché ti parlo dello spot più iconico quello che mi ha fatto entrare anche... Nell'Olofame. Perché è veramente lo spot più famoso in America. Addirittura, nel mio ufficio, ho una risoluzione del congresso americano che decide che nelle scuole americane, non mi ricordo più... Fanno vedere lo spot. Fanno studiare. Il mio figlio studierà il mio spot. È uno spot che ha fatto la storia. Porca toga. E allora, la storia è quella, ma questo sai, c'è una parte di fortuna, come in tutto, no? Ci deve essere sempre l'allineamento di pianeti. L'allineamento di pianeti. Però... E poi quello che dicevi, che arrivando da fuori hai una visione un po'... Sei più distaccato. Un po' distaccato. Allora, ho visto questa città rovinata, dilapidata, come dicono a Detroit. Detroit, in quel periodo era una città fantasma, no? Ghost Town, totale. e l'ho trovata incredibilmente, un'ispirazione incredibile. C'era un romanticismo, c'era questo grandeur de cadence, perché era stata chiamata la Parigi del Midwest, era una città ricca, era la città più ricca d'America. E poi caduta, caduta, dalle riots nel 67 a la... il momento di... la gente, ma veramente, vedevi i zombie spingere i carelli, eri in un film post-apocalittico, mi dicono, ma dove vuoi andare ad abitare? Ho detto, ma magari, sai, io ero andato a New York come tutti, un attore, il penthouse, il penthouse di che? Ma andiamo a downtown? No, non vai a downtown. Poi è esistito tanto che mi hanno dato la... c'era l'autista, la macchina blindata, la pistola, ho detto, ti porto a downtown, non avvisarti di aprire il vetrino, il finestrino, è pericolosissimo. E' la città più pericolosa dell'America e una dei più pericolosi del mondo. Oggi, una meraviglia. Cosa è successo? Sto spot. Dunque, io mi sono detto, facciamo un... uno spot su Detroit, non sulla macchina. La macchina la conoscono, cioè è una... Lì ho chiamato il nome, da Sebring è diventata la Chrysler 200. Ok. E dunque, al posto di far vedere tutti gli automobilari, fanno vedere una macchina che va generalmente grigia perché piace il grigio, che va, un bel crane dall'alto, poi, una bella fotografia, bella fotografia, musica, generalmente neanche ben scelta perché fanno sempre la musica del momento. Sì, ti prendi una hit del momento, che è una cagata, sono d'accordo perché tu devi... Non ha bisogno della pubblicità. Esatto, tu devi far diventare una hit il pezzo che vale in pubblicità. Perché uno ti costa meno, ma questo non è... già, e due, la gente dice oh, che cos'è? Che cazzo è questa roba? E poi, dopo che è diventata una hit, dicono ah, ma è la musica della Jeep, è la musica della Krasse, è la musica della Fiat. Dunque, sì, la storia di Pharrell e faccio... Il mio racconto è pieno di parentesi. Vai, 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 è pazzesco. Ma ti apro la cosa di Pharrell. Non so nemmeno a quanto siamo, raga, di minutaggio. Faremo... Un e mezzo, sì, ma faremo due puntate. Faremo due puntate. Esatto. La storia di Pharrell, tra l'altro, e poi torno su Detroit e sul mio spot preferito, è molto divertente. Lui aveva fatto... stava facendo il secondo album dopo quello che conteneva Happy. Chiaro, quindi era prima dei Daft Punk? Era prima dei Daft Punk. I Daft Punk l'hanno rilanciato con Happy, giusto? Cioè, con... No, era... Con... Get Lucky, con Get Lucky. Ma poi dopo gli danno l'album dopo che era Happy. Esatto. E là aveva fatto Happy, allora, se si chiama Girls, l'album dopo Happy. Happy era stato un flop. La gente non si ricorda adesso, è stato un flop. Era la musica, lui ci contava molto, era meravigliosa, ma sai, il tuo mestiere è... Il mio è difficile, il tuo non è molto difficile. No, no, era stato un flop. Era la musica di Despicable Me, come si dice in italiano? Cattivissimo me. Cattivissimo me. E ci contavano tanto. Quelli della Interscope mi avevano chiamato, io lavoravo con Beats, avevo messo Beats, nelle 20 milioni, avevo anche messo le casse Beats, per rubare un po', mutuare un po' di coolness, di Beats, che nessuno conosceva, e sono nel 2009. Ah, ok, quindi era la nascita. Però comunque c'era Dottor Dre dentro, quindi un po' di coolness di Dre, te la prendevi. Era super cool. Ha finito di essere cool quando è diventato Apple, ma era super cool. Perché era un po' underground, ma ce l'aveva Lady Gaga, c'erano tutti. Poi era il Dottor Dre, comunque. C'erano Dottor Dre. E dunque, io sono diventato migliore amico di Jimmy Ivin, che era in realtà il capo della Interscope, che poi ha fatto anche la Beats. E dunque Jimmy mi dice, c'è sta musica... Ma posso farti una domanda? Scusami, ma tu quando sei arrivato in America già li conoscevi questi? No, no, no. Come cazzo li conoscevi? Eh, ho fatto una cosa, due, tre cose, e poi... Allora ti dico una cosa, in realtà, io la mia grande fortuna è di essere arrivato in un momento di crisi che era totale, ma non solo per l'auto, ma per tutti. Un po' meno la musica forse, ma i studi, ad esempio. l'America stava malissimo nel 2008, 2009, 2010. E dunque, tanti sono venuti a Detroit, di gente che oggi, inavvicinabili, perché si era... non so come si è spasta la voce, che io era un po' capito... Creativo. Un po' creativo, pensiero un po' laterale, e sono venuti a conoscermi, facciamo qualcosa insieme, e spesso ti dicono facciamo qualcosa insieme, ma qualcosa a cosa. In realtà, io un po' questa capacità, all'inizio dicevo, sono meno creativo di quanto non si pensa, è vero, io la mia capacità piccola è quella di connect the dots, un problema, sono fissato, problem solving, e quando tu non vivi, non dormi, non respiri, perché hai un problema, è che il mondo ti butta opportunità, idee, stimoli, cioè la vita ti butta tutte le risposte, io ho solo questa capacità a dire hai detto poco, ma quello là con Beats, ma se mettesi Beats nelle macchine, ma non ti pago nulla, ovviamente, però ti porto Beats in pubblicità, bello, capito, quello Fast and Furious, sei anche un ottimo, sei bravo nelle trattative, le trattative, ma sai, trovi la cosa giusta, è fair, non deve essere uno scammer, però sei bravo, Fast and Furious, tu ci vedi delle dodge da sempre, da sempre, perché all'epoca è venuto Universal, è venuto il chairman di Universal, personaggio mitico, che adesso è andato in pensione, ma ha detto cosa possiamo fare, ha detto quali sono i film in uscita, sono tutti un po' bloccati, perché non c'è i soldi, ma quando si riparte, c'è quello, e allora abbiamo trovato, capito, il film per Dodge, il film per Jeep, il film per ogni macchina, Mission Impossible, l'ultimo, ci ho messo Labart, capito, si trova, perché ho anche la fortuna di lavorare per un gruppo che ha tanti marchi, oggi 14, ma all'epoca 8, sotto FCA, dunque c'è il muscle car, il lusso, la city car, c'è di tutto, capito, il SUV, non ti devo neanche dire, Freedom, Jeep, capito, American Muscle, Dodge, Pickup Truck, Ram, capito, copriamo uno spettro abbastanza ampio, e dunque ho fatto tutte queste cose all'epoca, torno, stavi dicendo Farrell, Farrell, chiudo su Farrell, in realtà quello di Jimmy di Interscope, mi dice, guarda c'è una canzone meravigliosa che dovresti usare, si chiama Happy, e la prendo io per Beats, prendila per Chrysler, quindi era già uscita, ma non era stata una hit, e sul film, e io dico, e non era andata bene, malissimo, ma sei sicuro? 100%, perché se mi ricordo, c'è una bella scommessa? no, no, ma mi fido, ma non devo farla scommessa, mi fido, mi fido, e dunque, quindi l'hai fatta diventare tu una hit, infatti, e la cosa incredibile è che lui mi riceve nello studio, carinissimo, organizza la cena nello studio, le candele, tutto, per vendermi le altre canzone, quelle nuove, e tu gli hai detto, no, no, e dico, bello, però Happy, è andata male, è andata una merda, ti dice, e poi, guarda, becchiti, becchiti questa, è carina, ma Happy, è più bello, e io torno sempre a Happy, e lui mi ha dato Happy, tristissimo, preso malissimo, e poi è ripartita anche da, sai, hai fatto una cosa furba, hai fatto questo video, 24 ore, hai fatto un video, mi ricordo il video, che tutti ballano Happy, dovunque, eccetera, comunque, queste sono le storie musica, dunque, tornando a Detroit, e alla Crouch, Super Bowl, Super Bowl, questo è veramente uno dei momenti, importanti, dunque, ho 20 milioni a giocarmi per un anno, e poi mi dico, sta cosa di Detroit mi intripa, secondo me, quello che capisco degli americani, ma da 3 chilometri della stratosfera, è che amano Rocky, amano, sai? Che amano Rocky, amano Rocky, amano quello che si è preso, i pugni, i pugni, e che risale, sì, che risale, sul ring, e noi siamo Rocky, siamo quello totalmente, non importa quante volte cadi, ma l'importante è che ti rialzi, che ti rialzi, e dunque mi sono detto, si chiama di underdog, quello che tu non vedi arrivare, una parola un po' inflazionata in Italia, attualmente, molto, c'è anche l'altra espressione, comeback kid, il comeback kid, Rocky il comeback kid, quello che fa un comeback, e allora mi sono detto, facciamo il comeback, non di Crouch, che la gente odia, perché Obama, aveva prelevato delle tasse, a gente che già era, in una situazione disperata, per bail out, Chrysler e Gia, non erano proprio presi bene, con la Chrysler, gli americani, avevano detto, parliamo di Detroit, non di Chrysler, poi, restituiamo un po', alla città, alla città, ciò che abbiamo, che è molto americano, ed è molto giusto, capito, e, mi sono detto, bella idea, allora ne parlo con, avevamo un'agenzia, abbastanza figa, e mi dicono, bellissimo, e creano lo spot, con, Seven Nation Army, White Stripes, White Stripes, e la cosa non mi parla, e poi, ci penso, ci penso, uno dei miei figli, ma era già una hit, si enorme, è che loro sono di Detroit, capito, però è pomposo, non mi faceva, e poi era già una hit, era già una hit, no ma, in realtà, là, sono andato sulla hit, ah, sei andato sulla hit, ok, e, uno dei miei figli, mi dice, che figo, io voglio visitarti a Detroit, perché è la città di Eminem, e dico, sì, Eminem, è vero, e dico, lui dice, no, non è White Stripes, non è Jack White, è Eminem, è certo, è Eight Mile, è certo, prodotto da Jimmy Ivin, sì, sempre, si torna sempre, sì, e dunque, casco su, cioè, l'inno di Detroit, che è la canzone più bella di Eight Mile, che è Lose Yourself, dunque, che devi assolutamente andare a vederti, lo spot, sì, adesso lo mettiamo in effetti, volevo, ma quello è una, prima me lo racconto, e poi lo vediamo, dico, siamo, è là, è la prima volta, vado da Marchion e dico, faremo il Super Bowl, il Super Bowl, un'azienda fallita, Super Bowl, impossibile, e te ne dico una, quest'anno non faremo il Super Bowl, perché stiamo, cercando, perché state bene, no, perché dobbiamo risparmiare, lo sciopero in America, sai, U.A.W., eccetera, nel 2010, 11, altro che risparmiare, eravamo broke, e dunque, lui dice, Super Bowl, ma, ci facciamo licenziare, tutti quanti, io incluso, Marchione, ci giochiamo il culo, perché il board, non eravamo i proprietari, eravamo, i proprietari, era il governo, il tesoro americano, insisto, 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 ah, sai, pensavo che si casasse, Marchione, e là, e là, c'è un limite alla folia, tu non puoi andare, il Super Bowl è una roba per aziende ricche, che stanno bene, in salute, amate, 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 hai detto una roba fondamentale, tu non sei amato, non sei amato, non hai una lira, hai preso i soldi dallo Stato americano, e in più vai a fare uno spot, serio, tutti i spot della storia del Super Bowl, sono tutti, super buffi, super fun, e io faccio, non posso fare una roba gioiosa, vado alla gestia, mi dicono, guarda, ti costruiamo la cosa, fanno un slideshow, per raccontarlo, ci mettono la musica di Whitesripe, e dico, andate voi con me da Marchione, per convincerlo, dopo mi ha lasciato le mani libere, ma quella volta lì, dunque mi fanno l'edit, lo vedo, non era bello, mi sono proprio veramente, ho avuto paura, mi sono detto, qua mi gioco il culo, mi gioco, ma là mi fanno fuori, non è possibile, mi gioco tutti i soldi su una chip, se non vince, allora, volo a Portland, in quell'agenzia lì, mi chiudo nell'editing booth, faccio fuori tutti, hai montato tu il video, monto il video io, perché io ho questa passione per l'editing, lo faccio da, io, ma tu lo sai, io ho iniziato, alla mia carriera, perché non avevo i soldi per girarmi i video, sì, e ho imparato a montarmi i video da solo, perché non avevo i soldi per girare i video, ho imparato Final Cut 9, a usarlo da solo, e ho fatto, i miei primi video li ho girati e montati io, allora io guardo, totalmente stessa storia, io da bambino timido, e un po' recluso, eccetera, io, per l'editing con tono vecchio, avevo la super 8, e dunque montare, volevi dire, tagliare, tagliare, incollare, e mettevi nella cosa, facevi una cosa, e dunque facevo queste cose, sono andato a montarmelo, e ho fatto una roba, strappa lacrime, che vedrai, ups, mi sono totalmente, ho pisciato fuori al vaso, fa due minuti, e due minuti ha due problemi, uno, costa, costa, ho sproposito, e due, e questa è la seconda morale, non sapevo, che non si può fare un 2 minuti, in realtà, al Super Bowl, sono tutti multipli, ci puoi arrivare, hai dei 30, ok, hai 1, 2, o 3, dunque puoi fare un 30, un 60, un 90, io faccio il 120, lo faccio vedere a Marchione, che dice, bellissimo, però abbiamo un problema, ma non ne lo dico, ah, come non l'ha visto il minutaggio, ah, non sapeva lui, sì, no, e, 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 e là devo cominciare a chiamare la NFL, la Fox, per dire, dovete letteralmente spostare, un po', la ripresa del gioco, io francese, capito, che arrivo in America, per, l'evento dell'anno, con gli italiani, a dire, no, no, guarda, dovete, dovete darci un po' di tempo in più, e spostare la partita, e l'hanno fatto, e ho detto, non è noi, è Detroit, e, e dunque, così è nato lo spot, guardiamolo, I got a question for you, what does this city know about luxury, huh, what does a town that's been to hell and back know about the finer things in life, well, I'll tell you, more than most, you see, it's the hottest fires that make the hardest steel, add hard work and conviction, and the know-how that runs generations deep in every last one of us, that's who we are, that's our story, now it's probably not the one you've been reading in papers, the one being written by folks who've never even been here, and don't know what we're capable of, because when it comes to luxury, it's as much about where it's from, as who it's for, now we're from America, but this isn't New York City, or the Windy City, or Sin City, and we're certainly no one's Emerald City, and we're definitely not seeing you happen to do something, or the Windy City's stuff that said to you , or the Windy City, or the Windy City's stuff that you can use in itself, bellissimo e là l'america quindi mi hai fatto il colpo robbo l'america si ferma cioè non lo vedevano quanto l'hai pagato? 20 milioni praticamente ho pagato 2 milioni ma rientrava nel mio budget per rifare la macchina quindi case history incredibile l'america si ferma la gente sai guarda vanno nei bar sports bar e la pubblicità guardano la pubblicità quanto anche di più è un evento e la parte sta cosa ma io vado così in un mi mescolo c'è silenzio sentivi volare le mosche finisce la cosa esplode pianti applausi quante craite le hai vendute dopo? ho fatto 6 mila per cento di crescita porca puttana con uno spot 6 mila con uno spot e non ho più fatto spot mi sono bruciato dai vieni a fare il sio da me e vedi vieni a fare il sio da me e vedi la cosa la macchina non si vede più di tanto però ti prende ti prende per mano ti porta e questo ho capito che le lighe automobili generalmente non capiscono io ho una fortuna incredibile uno effettivamente tendo a a insistere un po' a spingere e non prendo no per una risposta come dicono gli americani poi la seconda è che sono un po' ignorante mi mandate in America non sapevo che Eminem non facesse pubblicità non sapevo neanche tanto niente quindi andavi fuori dagli schemi perché non sapevo che in due minuti e il fatto di non sapere è meraviglioso e poi tre ho la fortuna che vivo in un mondo dove è un mondo di ingegneri bravissimi che fanno exploit tecnici molto più forti di non fare uno spot così ma non capiscono ma si innamorano talmente tanto del proprio prodotto che ti fanno fare la pubblicità con la macchina quello che dicevi tu e dunque in questo contesto lì io mi sono tuffato e con il supporto di Marchione mi sono tuffato a gambe tese e ho fatto l'anno dopo l'equivalente che poi adesso te lo vedi a casa con Quinti Stud eh sì mi sei diventato l'evento del Super Bowl poi l'anno dopo con Bob Dylan tutti aspettavano il tuo spot tutti aspettavano lo spot e l'ho fatto sempre con la stessa logica serio e con una storia che ti prende e tu e la macchina la fai vedere alla fine c'ho un'altra morale quando tutti fanno una cosa tu devi fare quello che non fanno gli altri se tutti al Super Bowl esatto fanno il fun tu fai il serio beh questa è la morale Marchione qui diceva devi fare e poi il giorno che fanno tu serio allora tu devi andare a buttarti sul questo era esattamente il suo modo che a volte mi rendevo pazzo mi rendeva pazzo a volte no tutti fanno una cosa perché è semplicemente giusta certo ma lui la reputava sbagliata perché se la fanno tutti pazzesca e dunque dunque questa è la storia dello spot Chrysler poi effettivamente grazie a questo ho sviluppato un po' questa specialità no ma giusto per dire nel 2011 adesso si spiega Bloomberg ti ha definito il come si dice Draper? Draper? ah Don Draper il Don Draper della Chrysler è il direttore creativo di Madman di Madman sì 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 che io non sono uno Don Draper è molto più sexy mi sei diventato una star in America sono un po' diventato nel campo del più del marketing perché più del marketing perché poi uno con un capo come Marchione tu non vuoi rubare la scena certo dunque sulle macchine era lui poi sul sulla sulla pubblicità sì totalmente dunque si sono aperte un po' tutte e mi sono giocato le opportunità per provare a fare sempre a innovare a fare qualcosa che gli altri non avevano fatto dunque c'è una lunga devi tornare in Italia in Italia non mi sei esploso no allora in Italia no in Italia abbiamo fatto no tu come personaggio ah come personaggio no io io esisto attraverso le cose che faccio esisto attraverso le macchine io posso dire non ti conoscevo io prima ma questa è la puntata più bella che io abbia mai fatto a Wolf credo perché è una storia incredibile sì e sei un po' italiano poi perché mi vai a vivere in America a Miami tornami in Italia mi sento totalmente italiano ma torna in Italia totalmente adesso capito tu mi conosci ma mi conosci attraverso le mie creature le mie creature sono o le pubblicità e non necessariamente di Fiat o di Chrysler e poi attraverso le mie macchine oggi c'è io ho quattro bimbi da 7 a 27 poi ho anche le mie macchine devo dire che la 500 elettrica non ti molerò fino a quando non la provi è molto figlia mia è una macchina assolutamente secondo me abbastanza perfetta per quello che deve fare certo è la seconda macchina non la sto vendendo come macchina principale ma è è un sogno di macchina per girare in città e non solo fa 320 chilometri di autonomia cioè va va però non è che la 500 è sempre senza la 500 io glielo ho detto alla mia assistente comunque che doveva recuperare la 500 vero? a lei piace la smart che vergogna la smart elettrica? no non elettrica la smart elettrica è carina abbiamo una smart brutta che è tutta rotta noi allora la smart brutta ti do una ti do dacela dammi la ti do la topolino capito che fa più o meno la stessa cosa e costa meno ma come te la sta vendendo? ma la topolino non è non si definisce in macchina è una city car sai che cos'è un quadriciclo ti posso dire io ne ho visto quando l'ho vista ho pensato a un'altra macchina che vedo ogni tanto qua a Milano sì la Ami Citroen ma io ho fatto quello in realtà ho fatto l'operazione che raccontavo prima ho preso la Ami le vedo a Milano queste qua si vedono queste Citroen ogni tanto a Milano che sono comode sono comode ma però sai cos'è a quel punto fammi un motorino chiuso è un motorino chiuso eh no perché il motorino io che sono milanese vengo da Rozzano sono nato in motorino tu dici due ruote chiuso sai qual è la differenza tra il motorino e quella lì che col motorino puoi sfrecciare esatto mi no questi non sfrecci no non è che sfrecci non salti la coda salti la coda anche perché non sfrecci è più sicuro e penso anche i genitori io ho preso l'Ami che è geniale molto molto intelligente ci abbiamo messo amore talento italiano creatività e abbiamo fatto una roba che è adorabile un design più più accattivante mettiamola così sì sì che tanto poi comunque è sempre del gruppo è sempre del gruppo è sempre del gruppo infatti l'ho mutuata proprio ci è venuta facile capito chiaro dunque dunque sì 500 elettrica che è una scelta anche veramente etica io la presento in America nel video che poi ti farò vedere perché c'è la musica di Alan Tether molto bella e la posiziono veramente sull'etica dico è forse la macchina più etica al mondo in contesto soprattutto in contesto americano uno perché ha un footprint molto piccolo in un mondo di macchine giganti in America è solo dunque non ruba il suolo comune certo che è già una cosa importante per gli americani è una bella rivoluzione due ruote grosse tutto grosso in America due è silenziosa perché è elettrica dunque non crea inquinamento dal punto di vista dell'impatto ambientale poi l'impatto ambientale che è la cosa più grande è la scelta di dire non è che puoi comprare l'una o l'altra vuoi la 500 ti piace è bella muori dalla voglia di averla prendi questa è elettrica e poi la chicca delle chicche che l'ho comunicata ma vediamo se questa ti è arrivata forse no e quando girerai con la tua 500 è una roba che ti sai che è l'unica macchina che canta no volevo sapere se ti si vede che non mi hai messo il rumorino che canta ho messo il rumorino che canta che è it perché io ho avuto altre macchine perché fanno un buzz elettronico io ho avuto le macchine elettriche che ti mettono tipo il suono ne ha avuta una che faceva il suono tipo di un'astronave ma normalmente fanno un suono abbastanza finito no no alcuni alcuni mettono per i pedoni no e l'alarma no no anche per per andare ah per andare puoi modificare il suono che fa tipo astronave facciamo sulla Abarth ad esempio mettiamo il suono proprio della marmita ok sulla 500 parlo del suono elettronico che tu da dentro non senti tanto da fuori ma che senti da fuori perché i pedoni devono essere allertati del fatto che c'è una macchina chiaro perché non c'è rumore normalmente fanno e il suono segue l'accelerazione fa la nostra non fa come fa ma che dice fa a Nino Rotta ma veramente a Marcord ma perché non lo comunicate comunichiamo di brutto ma in Italia no ma guardi i miei video ma in Italia no tu sei troppo in a me sei troppo a Miami no 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 sono qua sono qua devi farmi ti gestisco io la parte italiana è bellissimo perché porta il suono dell'Italia in giro per mondo ma è bellissimo rende la strada più bella ma è geniale uno è bella ma è stupendo sai il papa mi ha detto una cosa meravigliosa cioè lì ho portato la 500 e è stato carinissimo l'ha guidata e e dice vedi io quando guardo questa macchina sorrido dico bello mi fa piacere ma perché perché la macchina mi guarda e sorride io restituisco il sorriso e perché è una macchina che porta positività valori italiani beh io ringrazio Oliver Frazzuà per questa fantastica intervista ci vediamo alla prossima puntata di Buon Famici grazie